giocattolo per gatti automatico pectum le piume si estendono casualmente in orizzontale o verso l'alto d'otto uscite liberando la natura che cattura il gatto e metterà un suono quando è acceso che può attirare rapidamente l'attenzione del gatto si arresta automaticamente dopo 10 minuti di lavoro si accende automaticamente dopo 30 minuti si ferma di nuovo dopo 10 minuti non si riaccende dai al tuo animale domestico abbastanza tempo per riposare per evitare lesioni da esercizio fisico eccessivo il giocattolo è realizzato in plastica di alta qualità leggera e resistente il design anti scivolo sul fondo impedisce il ribaltamento o lo scivolamento su superfici lisce giocattolo per gatti dream on 3 in 1 sia il puntatore luminoso che la piuma possono essere controllati separatamente quindi attivare le funzioni contemporaneamente o individualmente questo giocattolo non ha bisogno di sostituire le batterie ricarica tramite qualsiasi dispositivo usb più conveniente ed ecologico il baricentro del nostro gioco è più stabile non facile da abbattere il nostro produttore ha eseguito il debag della velocità di rotazione più adatta per diversi gatti dopo molti test tre modalità di velocità regolabili adatte a gatti di qualsiasi età alla giocattolo per gatti puo gioia esclusiva per il tuo animale domestico anche se sei occupato questa palla giocattolo automatica per gatti garantisce divertimento al tuo amato gatto e assicura compagnia nei momenti solitari progettato appositamente per imitare il gioco naturale di un gatto soddisfa il suo istinto di caccia e assicura che il tuo amico peloso senta il tuo amore in qualsiasi momento in silicone naturale per un gioco sicuro ed ecologico e garantisce un'esperienza di gioco più silenziosa gioco di cattura topi a tre velocità che simula la fuga della preda per un autentico divertimento di caccia con canto degli uccelli e un grembiule peloso come accessorio nonché un design variabile per un piacere ancora maggiore di caccia funzione di riposo automatico per garantire che il vostro gatto riceva pause tempestive ricarica rapida per giocare tutto il giorno con un pratico cavo di ricarica usb di tipo c incluso giocattolo smart per gatti 3 in 1 questo giocattolo per gatti intelligente combina un giocattolo farfalla un giocattolo a led e un giocattolo per l'esercizio fisico stimolando l'istinto di caccia del gatto ed è una scelta ideale per l'esercizio fisico e il sollievo dallo stress al chiuso è realizzato in materiali ecologici resistenti a morsi e cadute quindi non devi preoccuparti che si rompa facilmente il giocattolo è anche dotato di sensori intelligenti che lo fanno evitare gli ostacoli mentre si muove in un modello irregolare anche una coda con fiume e cambiamenti di luce colorata che terranno il tuo gatto intrattenuto e libereranno i suoi istinti di caccia morbido pesce giocattolo per gatti un giocattolo interattivo con un sensore tattile integrato si agita ed emette un suono quando i tuoi gatti toccano il pesce sulla pancia manterrà i tuoi gatti concentrati sul pesce giocattolo e permetterà di scaricare la loro energia dopo un po si fermerà e si attiverà solo quando verrà toccato di nuovo questo pesce giocattolo verrà fornito con un sacchetto morsicabile di erba gatta che ha una attrazione intensa per il gatto il pesce ha una cerniera che tiene dentro sia il motore che l'erba gatta quindi puoi metterlo dentro farà divertire i tuoi gatti e ci giocheranno di più è un ottimo compagno per chi ha un gatto che annoiato o si sente solo giocattolo interattivo per gatti 3 in 1 fantictas la dimensione di questo giocattolo per gatti è di 10 per 10 per 15,5 centimetri è dotato di una bacchetta rimovibile con una sfera nella parte superiore per incoraggiare il tuo animale domestico a giocare con un design oscillante questo giocattolo per gatti può oscillare avanti e indietro può essere utilizzato anche come distributore di cibo giocattolo intelligente a doppia palla al centro del giocattolo si trova una pista su cui circolano due giocattoli a sfera i gattini non saranno in grado di distogliere gli occhi dalle palle che girano e saranno deliziati da questo gioco il nostro giocattolo può alimentare i vostri gatti consente di regolare manualmente il numero e le dimensioni dei fori di alimentazione è possibile selezionare entrambi o solo uno dei fori da cui esce il cibo puoi anche aprire entrambi i fori contemporaneamente per aumentare la velocità di uscita degli snack